Il primo della quadrilatero rischiano un altro stop i lavori. L'azienda appaltatrice ha annunciato il licenziamento del 40% dei dipendenti. A rischio il rifacilmento della statale 76 e il tratto Muccia-Camerino strategico per il rilancio delle aree del sisma. Analisa Serpilli. Ci sono soldi stanziati e cantieri ancora da aprire. Eppure 59 dipendenti da lunedì scorso rischiano il posto e le marche. Un altro stop all'infrastruttura più attesa e strategica del territorio. La quadrilatero. A produrre questa situazione la burocrazia eccessiva per l'erogazione dei finanziamenti. Lo scorso 26 aprile il comitato interministeriale per la programmazione economica avrebbe dovuto avviare l'erogazione di 174 milioni di euro. Ma il fascicolo non è stato discusso. E poi il rapporto che i sindacati definiscono burrascoso tra l'azienda committente, la quadrilatero e quella appaltatrice, la Staldi, che ha messo in mobilità il 40% del personale. I lavoratori diretti di Staldi sono lavoratori che vengono da molte regioni d'Italia. La maggior parte sono o calabresi o di capistrello. In realtà sul lavoro diretto non ci sono grosse ripercussioni nei lavoratori del territorio. Ma a cascata, nei subappalti che perderebbero comunque la possibilità di continuare a lavorare in quest'opera, molte persone del territorio perderebbero la possibilità di continuare a lavorare in quest'opera, è importante secondo noi. La quadrilatero nel tratto Camerino-Muccia è considerata strategica anche per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma. Pedemontana avrebbe il non completamento di quest'opera e creerebbe grossi problemi anche nel rilancio delle zone colpite dal sisma. Tra l'altro se fosse stata già pronta, anche per aiutare quelle popolazioni, sarebbe stata sicuramente una cosa molto importante. Ieri oggi assemblee e scioperi nei cantieri di Cancelli e Borgo Tufico. La prossima settimana CGL e Cislewil incontreranno l'azienda. Alla Regione chiediamo di fare pressione politica nei confronti della committenza quadrilatero ANAS per sbloccare questa situazione per il territorio, per non avere un'incompiuta. Al Ministero chiediamo di convocare al più presto il Cipe per avere lo stanziamento dei lavori che non hanno il finanziamento e ad Astaldi in questo momento di attendere di fare i licenziamenti sia per utilizzare strumenti alternativi sia per aspettare che si sblocchi questa fase istituzionale.